perché senti tachicardia o altre sensazioni particolari al cuore dopo l'incontro con la fiamma gemella ciao a tutti no non sono scomparso non mi hanno rapito gli alieni come qualcuno che ha detto mi sono solo preso la pausa per raccogliere alcune idee per dei video nuovi perché come avete capito fare i video nuovi sulle fiamme gemelle dopo ho fatto centinaia di video non è proprio facilissimo ok qualcuno mi dirà ma perché non fa i video su altri argomenti come i registi acasici di prose eccetera eccetera si posso farli però appunto che la maggior parte di voi anzi 99 per cento di voi di contatta e vi chiede informazioni sulle fiamme gemelle per cui non ha senso parlarvi delle pere quando vi chiedete qualcosa sul mango no giusto comunque fortunatamente alcuni di voi mi hanno dato dei spunti fantastici in questi giorni facendovi come sempre una miliardata di domande però alcune domande rispetto ad altre mi hanno dato degli spunti fortunatamente sono quindi da uno spunto anche interessante a mettere insieme il materiale di ricerca scrivere il testo del video creare il video insomma ce ne passa per cui chiaramente ci vuole tempo e volte ci vogliono due settimane prima di fare un video come in questo caso per cui anche perché se voglio avere qualcosa di valido da dire preferisco più fare un video dove o qualcosa comunque di utile l'interessante a dire piuttosto che fare video continuamente ma che non siano poi niente di che ok comunque ad ogni modo vanderendo al video di oggi il video di oggi serve appunto per rispondere complessivamente alcune domande simili fra di loro mi sono capitati se in questi giorni sia diciamo da un po di tempo però piuttosto che rispondere singolarmente mi sono un po stancato preferito fare un video unico in particolare voglio ringraziare da maria per lo spunto se volessi riassumere poi queste domande che sono state fatte che erano abbastanza simili fra di loro il tema diciamo su cui ruotano queste domande è caro jimbi dopo l'incontro con la mia fiamma gemella ho iniziato a sentire una strana sensazione al cuore che per alcuni può essere con un'accelerazione dei battiti cardiaci viene percepita così per altri e la sensazione di calore per altri la sensazione tipo porti caro qualcosa che ti che ruota che porti che c'è una forma di vortice un movimento a forma di vortice davanti al cuore intorno al cuore sul petto alcuni sentono degli impulsi simili alle scosse scosse elettriche appunto simile al tachicardia altri sentono la sensazione di irraggiamento c'è qualcosa che si espande dal cuore o dal centro del petto c'è un motivo per cui parlo di queste due aree ma alcuni mi hanno scritto un po preoccupati dicendo che insomma non capivano cosa stava succedendo dio ma non è questo male non è che mi viene la tachicardia o una malattia o non so cioè insomma qualcuno giustamente si è preoccupato abbia scritto ok che cosa sta succedendo vediamo di parlarne ok chiaramente qualcuno che ha anche detto ma strischi una salute dopo l'incontro con la mia fiamma sì lo so che qualche spirito sole dirà di sì ed effetti per certi versi potrebbe anche avere ragione però rimani fino alla vita alla fine del video per avere una risposta diciamo alla domanda iniziale perché sta succedendo questa cosa al cuore perché senti questa tentacchicardia queste sensazioni perché la spiegazione che ti darò se arrivare fino alla fine del video ti sorprenderà ok quindi arrivati fino alla fine per chi non mi conosce oggi mi fascina e prologo coach professionista preparatore mentale per sportivi cartovante numerologo attore gisa cacici operatori matix energetics operatore bassi access coach e se tante alta roba che adesso prenderebbe troppo tempo dire tante cose e prima di proseguire ci tengo a specificare perché è giusto dirlo che non sono un medico per questo video non contiene consiglio indicazioni tipo medico o per la salute in generale ma offre la protesta prospettiva spirituale ed energetica e anche su alcune cose scientifiche vedrete sulle fiabe gemelle sul percorso delle fiabe gemelli un calcio di uno scompera questo video è questo se sentite sintomi simili a quelli della tachicardia o comunque qualsiasi cosa che può essere legato alla disfunzione cardiaca è comunque consigliabile quando vero per togliersi il dubbio consultare il proprio medico delico di base almeno o il cardiologo per chi ce l'ha spero non tutti perché sono il cardiologo voglio dire che non sta benissimo però comunque per restare sicuri fate un controllo tanto che si ricosta però la saluto loro prezzo ok non so è una banalità ma è così per cui come sempre ti ricordo di mettere mi piace al video quindi pollicione sfascia 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 questo cavolo di video col pollicione ok iscriviti al canale premendo sul tasto iscriviti e previ anche sulla campanellina per ricevere notifiche quando esce un nuovo video perché sono riuscite ai miei video purtroppo a causa mia anche della mia pigrizia sono totalmente a random per cui se lo mette la campanellina rischi di perdere il nuovo video e soprattutto aiutatevi aiutate aiutatevi a raggiungere l'obiettivo di fare 5.000 iscritti al canale per fine febbraio 2020 21 perché ormai fine gennaio ci siamo quasi e non ce l'ho fatta però numero di iscritti piano piano sta andando verso 3.000 per cui con molta calma purtroppo però ci andremo ok bene veniamo al video di oggi allora come vai si provano queste sensazioni particolari al cuore come accelerazione tanti a di alcuni casi come appunto un capitale alcune persone si hanno questa sensazione addirittura prima di avere di nuovo un contatto con la fiamma gemella perché magari lo senti da mesi e qualche giorno prima una settimana prima due settimane prima inizia a sentire questa sensazione al cuore con la fiamma magari ti contatta dopo mesi o anni di silenzio ecco cosa succede perché allora c'è da capire è molto importante che la connessione delle fiamme gemelle che vi ricordo sono la stessa anima che qua abita in due corpi per me permette quindi questo tipo di connessione questo diciamo vaso comunicante questo canale unico che ne venga che è quello animico permette ai centri energetici delle fiamme gemelle che in realtà sono di tutti gli esseri umani però in particolare adesso parla di fiamme gemelle chiamati chakra di scambiare energia luce ed informazioni fra di loro ok quindi creano i rispettivi chakra delle due fiamme un vero e proprio network una rete di scambio di energia luce informazione ok che è sempre attiva questa è una cosa molto importante è sempre attiva ma di cui inizialmente noi non siamo consapevoli ok quando avviene riconoscimento animico che ripeto è quando tu ricordo vedi quando la tua anima vede o riconosce se stessa attraverso diciamo gli occhi della fiamma in realtà non sono solo non servono solo gli occhi per riconoscere la fiamma però diciamo attraverso negli occhi della fiamma vede se stessa quando l'anima vede se stessa il riconoscimento animico inizialmente è inconscio inconsapevole ok gradualmente si diventa coscienti di questo passaggio di energia di questo scambio di energia fra le fiamme perché è un continuo scambio di energia luce informazione quindi dell'esistenza di questo network chiaramente la percezione di questo scambio di energia dipende da quanto siamo sintonizzati rispetto alla percezione della componente energetica del nostro essere ok alcune persone che magari per mille motivazioni hanno una maggiore sensibilità di altri alla percezione dell'energia pensiamo a quelli che ad esempio utilizzano energia per lavoro che sono quelli che fanno pranoterapia reiki tai chi ok quindi usando le leggi come strumento shatsu cioè persone che sono abituate a utilizzare leggi come strumento chiaramente la percezione più facilitata ok per cui se per qualche motivo tu non hai ancora la percezione di questo scambio di energia tra le fiamme ma molti cambi ce l'hanno l'importante non far diventare questa cosa come bellesimo problema nuovo che si presenta con la fiamma gemello ok con il tempo potrai arrivare anche tu con pazienza a percepire l'energia ok ad ogni modo comunque quello che succede che i chakra delle fiamme gemelle man mano con il loro rapporto soprattutto delle fasi iniziali e parlo si diciamo si infittisce non mi era un altro tempo e comunque diventa più vicino fra di noi cioè diventano più vicino fra di loro iniziano a sincronizzarci di chakra sempre di più ok perché vibrano perché stanno vibrando alla stessa frequenza ora cosa sono i chakra ora lo sto a spiegare cosa sono i chakra perché se no questo video dura tre ore con cui chakra brevemente sono dei centri energetici che sono lungo la nostra colomba vertebrale partendo dalla cima della testa in realtà non è proprio così ma diciamo che partendo dalla cima della testa parliamo chiaramente di 7 chakra principali non sono gli unici che ci sono c'è qualcuno dice che sono 14 21 anche di più però diciamo i 7 circa principali partono dalla cima della testa quindi dal chakra della corona e scendono lungo la colomba vertebrale in sette punti corrispondenti a sette zone del nostro corpo ok il chakra rappresentano la corrispondente energetica di uno più organi o apparati che abbiamo per esempio apparato foratori eccetera eccetera proprio c'è la della gola o il chakra del cuore ad esempio ok proprio perché i nostri organi apparati avrà comporre corrispondente energetica i nostri centri energetici come degli organi fisici necessita di un po di particolare attenzione e cura no giustamente se uno si fa ogni tanto il controllo al cuore come altri organi e si fa il controllo ai chakra è utile fare la manutenzione un po come una macchina anche se non siamo una macchina però siamo la macchina biologica ok in particolare ma non unicamente grazie ad esso perché in realtà la comunicazione sottile a livello sottile con la nostra fiamma gemella si svolge attraverso tutti i chakra però in particolare quello che ci interessa di cui ci interessa per parlare oggi perché anche del tema e del titolo del video è il chakra del cuore ok ma quando siamo comunque in armonia con la nostra fiamma col tempo tutti i nostri chakra si sensibilizzano con quelli della fiamma ok però la comunicazione principale tra fiamma ovviamente dato che comunque si parla di amore è un attraverso avviene avviene attraverso il chakra del cuore ok il chakra del cuore è classicamente più o meno davanti al petto ok però mantiene un collegamento col cuore fisico c'è sempre un collegamento fra il chakra corrispondente a un organo apparato e l'organo fisico o l'apparato fisico corrispondente ok se volete approfondire chakra vi consiglio di leggere un paio di libri che sono il corpo sottile di sindi dei di una vera e propria ciclopedia un libro è una bestia di libro un alto così bellissimo costoso ragazzi perché ecco a colori eccetera però di vari tutti altrimenti un altro buon libro è il libro del chakra di anodea judith vi metterò chiaramente il link qui sotto in descrizione ok ora è interessante notare come il nostro sistema energetico i nostri pensieri e il nostro corpo fisico sono tutti collegati anche al nostro cioè tutti diciamo tutte le nostre componenti con l'energetica con la fisica con la mentale sono comunque collegate ok le condizioni di chakra particolare di quella del cuore sono legate come diceva quella del cuore fisico perché perché tra di loro formano un meccanismo di feedback ossia le condizioni di uno influiscono su quella dell'altro permettendo di lavorarci da entrambe le vie cioè sia della via fisica per la via energetica sia della via energetica per avere un effetto su quella sulla componente fisica dell'essere umano ok cioè quando abbiamo uno spavento quando qualcuno ci fa soffrire si dice che si spezza il cuore chiaramente non si spezza metà il cuore fisico ovviamente no ma sentiamo il dolore di una piaga dentro se andiamo osservare le condizioni del chakra del cuore come ho detto davanti al petto e ci sono alcuni che erove gente ci sono comunque dei modi per percepire le condizioni del cuore vedevo che il nostro equivalente energetico del cuore offuscato e disarmonico soffre ok volte perde energia dipende da quello che è successo chiaramente ok quindi l'energia non fruisce più libera come prima a causa del trauma ok in india dove insomma di queste cose le sanno abbastanza nello yoga il chakra del cuore in condizione di equilibrio si chiama anahata usate la pronuncia che in sascrito significa non scalfito non colpito perché lo scolfito perché fisicamente il cuore un organo bolle no come sapete metafisica mente invece energetica mente il cuore c'è la vediamo la parte invisibile della nostra componente visibile del cuore la parte energetica del cuore è invece un cristallo una pietra in sostanza cosa succede quando scalfiamo il cristallo tra pareti se qualcuno che vedeva se l'ormun si ricorderà la canzoncina se l'ormun è il cristallo del cuore anche dei cartoni anche se loro lo sappiamo comunque di un cartone giapponese dove viene dalla cultura orientale che comunque collegata alla cultura indiana perché comunque erano relativamente vicine quel cui alcune informazioni comunque passano anche attraverso cartone arrivati anime eccetera anche se non sarebbe conto non ci ride su ma anche delle canzoni di stile ad avere a volte ci sono le verità ok dicevo quindi quando si incrina questo cristallo si rompe l'armonia strutturale del cristallo ok perché un cristallo una volta che rotto come vi è capitato a me è successo purtroppo di far cadere cristalli e romperli si rompe l'armonia strutturale del cristallo per cui non può più riflettere la luce che arriva dello stesso modo di prima e comunque insomma perde delle quali delle caratteristiche ok ora dietro questa conoscenza antica c'è una base scientifica anche se di frontiera quindi avevo visto inventando le cose relativamente ok ma prima di parlartene voglio dirti una cosa importante voglio dirti ricordarti di abbonarti al mio canale per cui se non sei volato al mio canale abbonati al mio canale supporta il mio lavoro di ricerca e divulgazione di contenuti utili per te come quelli che troverai in fondo a questo video che vedrai ti sorprenderanno perché questo video insomma c'è un lavoro di ricerca che è stato notevole in questi giorni vedrai ok abbonarti ti costa 6 euro 99 al mese poi di iscriverti quando vuoi a zero rischi poi iscriverti per un solo mese per farti un'idea dei contenuti esclusive se ti piace ti piacerebbe unirti agli abbonati la c'è lavoramento ti dà accesso a una diretta mensile in cui puoi fare delle domande legate alla sua situazione sulla fiamma se vuoi chiaramente la tua fiamma gemella può anche altro però sempre legato alle fiamme gemelli non necessariamente di chiedere qualcosa per la tua non desidera qualcosa che ti incuriosisce io ti risponderò in diretta e poi anche ai come cosa sempre per gli abbonati video mensile esclusivo per gli abbonati o su argomenti scelti da voi o scelti da me dipende oppure ci saranno degli approfondimenti o degli esercizi di gruppo in diretta o magari utilizzerò questi video ex per parlarvi di cui di cose di cui normalmente non posso parlare del canale perché l'argomento di youtube non ha alcuni temi e ultimamente se avete seguito quello che sta succedendo con il socio accensione mare iniziate a capire che la cosa è molto più importante di quello che sembra ok o magari parlarvi di altri argomenti non sono legate le fiamme gemelle come crescita personale spirituale regista cascici e tutte le altre cose che faccio ok abbonarti mi permette di fare di più di produrre più contenuti di maggior qualità utilità per te perché posso focalizzarmi al meglio sul sullo strutturare i contenuti ed esporli piuttosto che fare altro ok puoi provare abbonamento per un mese premendo sul tasto abbonati che trovi accanto al tasto iscriviti in tutti i video ma trovi anche proprio sul mio sulla pagina principale del mio canale di youtube è quello che stai seguendo ovviamente stai vedendo questo video ok puoi accederli appunto premendo sul tasto abbonati ricordo di ti ricordo che iscriviti al canale non vuol dire abbonarti di proprio premere sul tasto abbonati da un abbonamento a pagamento ovviamente ok una volta sì chiaramente tutto questo se ti interessa ok ho già pubblicato e perché ve lo chiede si contenuti dei video pubblicati non li cancello una cosa che poi per adesso voglio fare per chi sia buona bene anche contenuti precedenti perché giustamente qualcuno si potrebbe si scopri potrebbe scoprirmi adesso e gli altri contenuti che fanno l'hanno persino rimangono la chi sia buona adesso avrà i contenuti nuovi e quelli vecchi ok ho già pubblicato per gli abbonati un video speciale dove ho dei consigli pratici ulteriori da applicare per chi ha fatto la programmazione di file anno la propensi l'avete fatta se non sapete che sto parlando scorrete nel mio canale nel mio canale di youtube che è questo appunto troverete un video molto bello con la programmazione del 2021 e comunque fate ancora in tempo a farlo perché siamo appena inizio dell'anno per cui non siete big e fatela che è utile ok poi troverete anche un approfondimento speciale sul bilanciamento con delle idee nuove che non sono presenti nemmeno rimangetizza che il mio percorso per le fiamme gemelle c'è la registrazione di una diretta lunga di due ore con tanti contenuti e trovate come ultima novità dei video di un festival più partecipato dal vivo quando ancora si potevano fare l'anno scorso dove do alcuni spunti interessanti ancora alcuni ero molti perché molti sono anche delle delle cose base sulle fiamme gemelle però faccio l'intervento sulle fiamme gemelle alcuni spunti che non ho trattato finora nemmeno nei video dal video nemmeno dei video del canale per cui un ulteriore extra e questo appunto serie di video per chi si iscrive e si è buona ok trovi qui sotto il link descrizione per poter temporare direttamente chiusa parentesi torniamo al video ok diceva quanto risulta dagli ultimi studi anatomici perché stavo parlando della diciamo della base scientifica adesso di queste antiche verità negative al cielo del cuore a quanto risulta tutti gli studi anatomici cardiologici neurologici e quant'altro sembra che contrariamente quello che crediamo non abbiamo un solo cervello ma più di un cervello in particolare il cuore è stato scoperto che è un cervello vero e proprio cioè tra le tante funzioni che ha anche quella di essere un cervello però sapevate perché perché hanno scoperto del cuore produce ormoni che sono in sostanza dei neurotrasmettitori quindi un cervello ok la cosa interessante che il cuore e il cervello collaborano con la parola il sistema cardiaco quindi il cuore e tutto quello che è legato al sistema cardiaco raccoglie della buona informazione dagli altri organi per inviare il cervello ok sembra che il cuore reagisca molto prima del cervello possiamo quasi dire ancora in studio questa cosa che comanda il cervello non avrebbe mai detto nessuno cosa che in effetti direi stupisce a pensarla dato che credevamo proprio il contrario c'era convinto nel contrario ok quindi questa scoperta perché non sapesse di che diavolo sto parlando è stata fatta da un istituto americano che pareva californiano che si chiamasse tutto earth mat è un istituto di ricerca più realistico rispetto agli studi della cosiddetta tecnica della coerenza cambiano per loro proprio una tecnica ok cos'è la coerenza cardiaca è la è una tecnica che volta regolare la variabilità della frequenza del ritmo cardiaco della frequenza e del ritmo cardiaco e influenzare attraverso questa tecnica il sistema nervoso centrale tramite l'integrazione l'interazione col sistema nervoso autonomo che abbiamo due sistemi nervosi no quello simpatico quello parasimpatico ok che avviene attraverso nervo vago studiatevi queste cose perché chiaramente anch'io ho alcune conoscenze ma non sono non è il mio campo ok quindi secondo il modello neuro viscerale e di sintonizzazione sistema parasimpatico e simpatico per adesso non c'è tempo di approfondire queste cose però iniziate a cercarvi sistema nervoso sistema parasimpatico sistema simpatico hrv che si dice che praticamente heart rate variable cioè l'indice di variazione cardiaca eccetera eccetera se volete approfondire ok tutte queste cose più o meno le trovate in un documentario inglese che si chiama the power of the heart che trovate qui sotto in descrizione dei link e però l'inglese si vende su amazon chiaramente se lo volete ve lo comprate l'inglese una volta credo c'è forse c'era anche su netflix pro me sono sicuro però adesso non c'è più purtroppo forse c'è ancora non lo so però comunque è un documentario molto interessante da cui ho preso alcuni spunti di questo video ora la cosa ancora più interessante dal mio punto di vista è che non solo il cuore sembra più veloce del cervello a mandare impulsi che reagiscono all'ambiente ok buzi e ben quindi che reagisca impulsi e mentali ma addirittura è più veloce della bigdala la bigdala è una gandola che sta più o meno dove sta di si dice il terzo occhio che la bigdala cosa fa reagisce quando noi vediamo per la prima volta un qualcosa che somiglia a un animale o un essere umano comunque una figura attiva quindi un oggetto a volte non so se in teoria funziona anche con gli oggetti in animati ma forse sì la nostra amigdala cerca di riconoscere che cos'è e che cosa fare quindi regola il cosiddetto meccanismo di derivazione animale di fuga attacco o congelamento ok perché possiamo avere queste tre reazioni rispetto a un pericolo cioè o rimanere terrorizzati congelate la paura o scappare a gambe levare perché per sopravvivere oppure attaccare quando io ti attacco così ti abbatto prima che tu fai male a me ok quindi sembra che sia addirittura più veloce della bigdala e considerate che la bigdala è velocissima ok ma addirittura è che ancora più interessante di questo a quanto risulta dai dati elaborati degli esperimenti fatti dai condotti dall'istituto earth math che chiaramente potete vedere documentare che citavo prima the power of the earth il cuore il cuore ha come la capacità di prevedere il tipo di pericolo o l'impatto emozionale di un accadimento qualche istante prima che si verifichi l'accadimento stesso questa è una cosa incredibile alterando la frequenza del battito e quindi il numero la quantità di neurotrasmettitori e messi in circolo per segnalarlo al cervello dai come percezione intuitiva istintiva ancor prima che il cervello riesca elaborarla coscientemente quindi in sostanza il momento in cui sentiamo una cosa cioè sentiamo quella cosa andrà in un certo modo ma non sappiamo spiegare il perché perché non è ancora successo niente ma magari quando entriamo in una stanza o ancor prima di entrare la prima stanza ancora prima che ci sia vicino a persona sentiamo come direbbero in guerra stellare un disturbo nella forza ok nel cuore pare che riesca tra virgolette a prevedere anticipare il tempo come sia possibile questo dove la più pari vediamo a questa è quello che sembra che la scienza stia scoprendo per cui noi ci limitiamo a stupirci e andare avanti bene ora la nostra cultura per tipo il tipo di cultura che abbiamo avere l'occidente l'oriente già un po meno però anche lì si stanno un po snaturando la nostra cultura è molto portata a farci stare troppo veramente e molto poco o niente del cuore ok chiaramente questo col tempo ci porta a disconnetterci dal sentire intuitivo del cuore dall'ascoltare il suo linguaggio unico che non è fatto di parole l'immagine del cuore è fatto di energia un linguaggio energetico perché energia come spiega access concio stesso riscriva bellissima di cui non ho mai tempo di parlarvi l'energia è la prima forma di linguaggio prima ancora che ci sia un linguaggio verbale ok quindi è importante come avete capito prenderci cura della condizione energetica del nostro cuore perché perché il nostro cuore essendo un cervello come proprio come cervello non è un semplice computer biologico perché molti dicono che il cervello computer no dice però la computer ma è più simile avere proprio a rice trasmittente ossia riceve continuamente input dall'esterno dal campo elettromagnetico attorno a noi da mille altri input ok è proprio come cervello non solo riceve ma anche mette quindi cosa vuol dire che il cuore mette dei segnali infatti il destituto air bat ha scoperto che il cuore come cervello perché c'è bello lo fa dato che comunque funziona per impulsi elettrici e mette un campo anche il cuore può caretto un campo elettromagnetico quindi questo campo cosa fa crea appunto uno un campo attorno a noi questi campi possono interagire fra di loro perché come lo mettiamo loro detto un'altra persona e quindi il nostro cuore come una rice trasmittente e mette riceve segnali dal cuore di altre persone che sono fuori da noi ammesso che esista qualcosa fuori da noi ok quindi ha dei segnali che mette a dei segnali di ritorno a sua volta per l'interazione che si crea con le altre persone ok e questo segnali di ritorno può essere coerente quando cuore e mente il segnale che noi mettiamo all'esterno è coerente quando cuore e mente sono allineati fra di loro ok e ovviamente discordante di non coerente quando cuore e mente viaggiano su due lunghezze d'onda diverse per via di dubbi conflitti eccetera eccetera per cui adesso capite perché serve lavorare sui propri conflitti interiori per integrare parti noi dissonanza cioè disarmonia ok quindi singole note che non riescono a formare un'orchestra perché ogni strumento se ne va per i fatti suoi la coerenza cardiaca quindi è una delle caratteristiche fisiche quando si realizza quello che ho chiamato allineamento ad anima ok le paure alimentate da giudizi sugli eventi a cui noi attribuiamo un significato dei nostri pensieri portano fuori dalla coerenza cardiaca dato che siamo a quel punto immersi dell'energia della paura la maggior parte delle persone infatti al cuore chiuso ok perché perché nessuno ha ricevuto l'amore che avrebbe voluto dovuto e voluto avere ok la prova di questo è il dilagare e la dilagante ondata di narcisismo purtroppo ha diventato anche dei social media vi ricordo che il narcisismo cos'è nasce da una ferita della sfera dell'amore c'è il narcisismo su base nasce da quello ok ora chiaramente non sociale del cuore che è legato alle condizioni del cuore fisico si può come si dice diciamo chiudere cioè chiudere vuol dire che non non performa come dovrebbe l'energia lo scorre come dovrebbe si chiude per diversi motivi ad esempio mancanza di amore che non abbiamo ricevuto nella nostra famiglia d'origine tante persone non hanno ricevuto amore della famiglia d'origine travi psicologici delusioni sentimentali relazioni disfunzionali abusanti soprattutto molte donne le hanno tra diventi ferite da rifiuto vi ricordate i video sulle cinque ferite di fama e gemella datele rivedere karma traumi ereditati da vite precedenti convinzioni sbagliate apprese della cultura nazionale in cui siamo in versi per esempio per le sole donne sono tutte gli uomini sono tutti siamo capiti e cose di questo tipo ok esperienze spiacevoli e male interpretate tra ui della sfera dell'intimità insomma l'elenco potrebbe essere infinito ok questo è solo un piccolo esempio ma è infinita la lista ognuna di queste cose offusca una delle facce del diamante che sprenderebbe nel cristallo del nostro cuore del nostro gioco del cuore quindi scalfendolo con delle ferite profonde spesso mai completamente guarite perché facciamo molta fatica soprattutto una delle cose più di che facciamo più fatica le occidentali e perdonare chi ci ha fatto male perché perché abbiamo tantissima rabbia dentro che blocca impedisce di perdonare perché invece delle culture orientali pensate insomma alcune buddiste eccetera eccetera ma non solo che vi dicono perdona 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 guarda caso un messaggio che diceva anche una volta la chiesa però messaggio è stato un po un po tanto tramandato però se vedete c'è una radice comune pure fra le regioni perché alcune cose sono fondamentali per essere umano vabbè comunque andiamo avanti quindi questa rabbia quindi riduce o blocca la quantità di energia che invece potrebbe scorrere se perdonassimo chi ci ha fatto del male o chi percepiamo crediamo ci ha fatto del male quindi riduce la quantità di luce informazione che mettiamo nel cuore fisico e che bacia del cuore ok quindi riduce questa cosa quello che sentiamo come dicevo prima quindi quello che sentiamo nel cuore quindi queste accelerazioni queste sensazioni di cui parlavo prima vengono messe dal campo energetico del cuore che è stato appunto misurato dall'istituto earth matt il campo energetico nel cuore elettromagnetico elettromagnetico fisico messo dal cuore pare sia 500 volte più forte di quello messo al cervello la peppa la sua configurazione geometrica andandola a misurare quella di un cosiddetto toroidi è una ciambella sostanza di energia ok con un diametro compreso tra in media un metro e mezzo 2 metri e 40 circa ok c'è 2,4 metri ovviamente 4,4 metri all'esterno attorno a noi ok quindi partendo dall'area del cuore campo di energia si dipana all'esterno del corpo mettendo dei segnali con una vera e propria ricerca trasmittente quindi questi segnali possono essere captati da chi ha le antenne attive e ricettive a riceverle ok quando si parla di legge di attrazione come celeberrimo fit secret si dice che i pensieri messi al cervello diventano cose ok quindi bisogna utilizzare l'immaginazione il cervello la visualizzazione eccetera eccetera per rendere reali le cose immaginate ora immaginate cosa succederebbe se invece di usare la legge di attrazione con i pensieri emessi dalla ricetta trasmittente del campo elettromagnetico del cervello usassimo e li mettessimo dal campo elettromagnetico nel cuore che 500 volte più forte e potente di quello del cervello ecco che rimagnetizza una delle cose che insegna proprio questa è giusto per farvi una piccola un piccolo scoop su quello che insegna di rimagnetizza nel documentario The Power of the Heart di cui vi citavo prima parlano anche delle relazioni infatti è molto interessante perché dico una cosa che dico da abbi cioè si dicono che piuttosto che di cercare disperatamente l'amore dovrebbe invece cercare di conoscerci più fuori più a fondo possibile per capire chi siamo ok qual è la nostra vera identità quello che siamo dentro la nostra essenza i nostri talenti eccetera eccetera e quel punto a quel punto lasciare che l'amore arrivi sulla base della risonanza di quello che abbiamo scoperto di noi conoscendoci insomma quello che dico da abbi che come vedete ha una base di ricerca credibile il segnale verso la cioca del cuore viene cattato e amplificato da un'onda che vibra della stessa frequenza viene annullato distrutto se volete bilanciato perché bilanciare vuol dire annullare distruggere da un'onda di frequenza contraria quindi cosa vuol dire che chi è vibra la nostra stessa frequenza amplifica quell'onda chi vibra una vibrazione opposta alla nostra al senso proprio che è molto diverso da noi da nulla vi ricordo perché a qualcuno potrà venire dei dubbi rispetto a delle cose ho detto in passato che la nostra fiamma gemella la stessa esatta frequenza energetica abbiamo noi perché la stessa anima ma la polarità è opposta e complementare ok quindi cosa vuol dire vuol dire che se dovessimo indicare le fiamme gemelle come erano i due come arrivare in uno stesso percorso lo stesso luogo entrambe arrivano stesso luogo quindi la frequenza è la stessa ma ci arrivano per strade opposte come per dire per andare a roma posso passare di qua o per andare a roma posso passare di là ma tutte le strade portano a roma ok quindi la frequenza opposta specula la nostra cioè la frequenza pardon la polarità scusate mi sono confuso ora l'amore una frequenza dell'anima espressione di essa una frequenza inclusiva non esclude niente non giudica niente è incondizionato ok la paura l'energia della paura esclude invece crea barriere creando una creando e cercando una causa delle condizioni da incolpare fuori da sé ok non è accogliente ma distanzia la frequenza legge della paura nulla l'amore sono quindi mutualmente esclusiva un esclude l'altra per questo motivo la nostra energia che già in coerenza in uno stato di amore diventa altissima quando in presenza della nostra ferma gemella viene amplificata dalla risonanza con la stessa frequenza o codice animico cioè come per dire se io suono una nota e tu suoni la stessa nota vanno in risonanza ok questo è un fenomeno proprio fisico musicale ok quindi crescono a dismisura e quello che spiega praticamente basa ora e moto se lo conoscete nella memoria dell'acqua studiatelo che è sempre interessante ok per poter rimanere in questa stato di allergia altissima entrambi quindi entrambe le fiamme bisognerebbe rimanere lo stato di incoerenza cardiaca costante quindi non desidero di se di se ideando mai il pensiero dal sentire il cuore dalla mente ok cosa che è più semplice a dirsi che a farsi ovviamente ora dovrebbe in sostanza quando prendiamo una decisione ascoltare sempre il nostro cuore che può qualcosa che si dice anche nelle canzoni lo ascolta il tuo cuore eccetera eccetera e far arrivare risposte da lì che guarda caso è praticamente quello che si fa quando si leggono i gesti acacici tra l'altro per chi non lo sapesse nel momento in cui la mente si crea o forma un dubbio si disabilita dal cuore a delle paure per cui dobbiamo essere bravissime a riportare la centratura del sul cuore a tornare quindi uno stato di coerenza cardiaca stato di coerenza cardiaca ve l'ho spiegato per quando il cuore la mente sono ideati ora non è per nulla facile perché tendenzialmente tutti abbiamo conflitti tra quello che pensiamo e quello che sentiamo durante la giornata per forza però possiamo lavorare di giorno su di noi per aprire il cuore un po di più e mantenerci in uno stato di coerenza cardiaco lo facciamo affrontando le nostre paure smettendo di giudicare eliminando quindi i giudizi imparando a avere fiducia in anima rimanetizzare la tua fama gemella contiene uno strumento in particolare che ti permette di rimanere con il tempo facendo pratica in coerenza cardiaca ma prima che mi chiedi qual è questo strumento voglio avvisarti che pure se ti dessi ora lo strumento non ti servirebbe a niente perché non sapresti come usarlo infatti necessario lavorare su dei presupposti delle fondamenta delle condizioni necessarie affinché tu sia della condizione di poter far funzionare questo strumento finché sei dell'ossessione mentale per la tua fiamma non riuscirai mai a farlo funzionare ecco perché rimanetizza vero e proprio percorso e non è una tecnica o una raccolta di tecniche molto di più uno sky un cambio di prospettiva che rimette al centro proprio te partendo dall'amore da una conoscenza profonda di te stesso come anima che amore perché le legge di amore ok per diverse persone che non hanno mai avuto loro c'è anche aperto l'incontro con la fiamma gemella quindi sarà la prima volta che il loro cuore viene aperto ok come ho detto a qualcuno come ho detto pardon a qualcuno può succedere anche che il cuore si apra poco prima del primo incontro con la fiamma ma non è una regola per cui non vale per tutti per cui se a voi non è successo non è un indicato dovete sentirvi in casi dati e sbagliati soprattutto se non vi è successo non è un indicatore cioè se vi è successo che il vostro cuore si è aperto poco prima dell'incontro con la fiamma o quella che crede la vostra fiamma non vuol dire che questo sia un indizio certo che avete trovato la vostra fiamma ok quindi inutile che vi ossessionate su questa cosa quando il vostro cuore viene aperto dopo l'incontro con la fiamma quel canale di comunicazione rimane aperto ok anche se non ne siete consapevoli ecco perché potete sentire vibrazioni calore accelerazione del battito cardiaco è qualcosa che somiglia o analogo alla tachicardia ma senza appunto gli effetti desiderati di questa malattia perché la tachicardia è la malattia questa sensazione questa vibrazione indica un maggior passaggio di cuore di energia luce informazione informazioni sottili fra di quella fiamma ecco perché sentite ogni tanto queste cose ok anche se soggettivamente a livello sistico sembra che le pulsazioni aumentano in realtà se noi andassimo a misurare in quel momento le pulsazioni del cuore scoprivo che i battiti non sono accelerati ma sono rallentati ok lo so una cosa sembra incredibile perché voi la percepite diversamente ma non è così la stessa cosa quindi questo rallentamento del cuore che però viene percepito soggettivamente con l'accelerazione improvvisa e a volte un momento del calore accade anche durante la media di fa con l'utilizzo delle facoltà mediali che è una cosa nota che secondo me molto interessante ok quello che accelera non è il cuore fisico ma c'è la del cuore che inizia a vibrare più forte a noi sembra di sentirlo addirittura a livello fisico come se fosse il cuore ok questa vibrazione può attivarsi a volte per annunciare l'arrivo di un messaggio da parte della fiamma gemello di un rincontro qualcosa del genere sempre legato alla fiamma ma ripeto questo non vale per tutti ogni coppia diversa quando si è in coerenza cardiaca l'onda bioelettica che pronunciamo della coerenza tra cuore e cervello è di tipo sinusoidale cosa vuol dire praticamente quella che si vede nell'immagine di copertina di questo video guardatela bene ok ed è quella di destra la mia destra che anche la vostra ed è stata misurata sinusoidale vuol dire che l'energia non ha picchi o delle vanni improvvise avete presente quando si vedono i grafici delle quotazioni di borsa che ci sono quelle linee spezzate improvvise che saranno scendono eccetera eccetera non sono armoniche si vede no non solo curve sono spezzate ecco quando è sinuso tale è curva e armonica quando è non è sinuso tale è spezzata quindi a picchi vanni improvvisi ok quindi sale scende bruscamente perché perché quando il sinuso tale l'onda è coerente quando resta di sinuso tale non è coerente quindi quando è coerente l'andamento è ondulatorio fluttuante proprio come un'onda che va avanti e indietro come l'onda del mare perché c'è coerenza tra quello che sentiamo quello che pensiamo quindi quando si sente la sensazione di galleggiare oscillare eccetera eccetera e lo si avverte a quel punto siamo in coerenza ok è interessante tra l'altro che questa sensazione è quella che si sente quando siamo connessi all'energia di akasha per cura dei primi indicatori o marker che si è connesso che preso la linea per essere con messa cascia proprio la sensazione di galleggiamento infatti le risposte di akasha arrivano dal cuore guarda caso interessante no quando invece sentiamo tachicardia variazioni brusche australie del cuore come già nel campo del cuore che diventa di colpo calda freddo eccetera eccetera o una sensazione di disarmonia o sensazioni simili di alterazione quindi qualcosa che non è armonico vuol dire che non siamo in coerenza cardiaca significa che sebbene stiamo lavorando sul bilanciamento per uscire dalla componente mentale dalla paura essa ancora presente ci fa uscire appunto dallo stato di coerenza cardiaca per cui non sentiamo quella sensazione di benessere galleggiamento e che anche calore e io lo sento almeno come calore in modo costante che avremo quando siamo invece l'allinamento con la nostra anima che appunto come vi spiegavo prima è l'equivalente metafisico ed energetico dello stato di coerenza cardia quindi stato di allenamento uguale sensazione di coerenza cardiaca c'è stare uno stato di coerenza cardiaca a livello fisico sensazione di galleggiamento e benessere pace perpetua eccetera eccetera solo che a differenza del genere quando vi dico l'allinamento magari non avete idea di cosa cosa parlo ma dico coerenza cardiaca anche se non avete un'idea sappiate che una cosa fisica misurata che esiste quindi in qualche modo può essere verificata in qualche modo ok quindi cosa vuol dire che se non sentite questa sensazione di galleggiamento di benessere pace perpetua di allinamento fra mente e cuore eccetera eccetera vuol dire che c'è ancora da lavorare perché avete ancora dei dubbi paure insicurezza e cose che emergono che la fiamma di tira fuori ok quindi man mano che ci lavorerete che si lavora sul bilanciamento annullando le vostre paure non solo con la fiamma gemella ma in tutta l'area della nostra vita perché la vostra fiamma gemella è una cartiera sonda sole del rapporto che avete con voi stessi perché la fiamma siete voi ok la sensazione di tachicardia e altre sensazioni di incoerenza c'è un malessere spariranno per lasciare spazio la sensazione di pace perpetua ok quindi non avrete più picchi e balli sbalzi modi sbalzi morali e quant'altro ok bene spero dopo questa dopo aver risposto a questa domanda con questa lunghissima spiegazione io spero che vi sia stata utile ok se vuoi scoprire come riunirte la tua fiamma gemella nel rapporto armonico ed obbligo so con la fiamma anche sul piano fisico scoprendo come puoi rimanere in uno stato di allineamento con la tua anima che ti porta naturalmente quindi senza che tu debba utilizzare perché esistono delle tecniche specifiche le hanno creati dell'istituto ma delle tecniche per stare lo stato di coerenza cardiaca ma se vuoi imparare come naturalmente entrare in questo stato di coerenza cardiaca bilanciando la tua energia della paura che chiaramente questa ti porterebbe a uscire dalla coerenza cardiaca e ti farebbe chiudere cielo del cuore se vuoi imparare come si fa come sempre avendo anche dei primi dei principi universali che ti saranno sempre utili e validi oltre a questi strumenti per poter rimanere in coerenza quello che ti consiglio di iscriverti al mio percorso rimagnetizza la tua fiamma gemella la tua vita ok perché in questo percorso troverai se vuoi gli strumenti per mettere in pratica tutto quello che ti ho spiegato in questo video attraverso un percorso strutturato e organizzato per facilitarti tutto questo travaglio non vivere un altro termine però per molte così che l'incontro con la propria fiamma gemella perché ragazzi farlo da sola è difficile è molto difficile allora quello che devi fare è iscriverti al mio percorso rimagnetizza la tua fiamma gemella che è un percorso che ti dà gli strumenti principi universali che ti aiutano a gestire al meglio il tuo rapporto con la fiamma una volta per tutto perché dopo questo corso non avrai più bisogno di fare veramente nessun altro corso realtà neanche nessun altro corso di crescita personal è un'affermazione forte ma chi lo fa bene secondo me arriva veramente a questo perché impara a sentirsi avere una guida da dentro non da fuori una cosa che è certa che dopo questo percorso non avrai più bisogno di come ti posso dire cercare video video di cartomanti o altro che ti parla di fabbe gemelle eccetera eccetera perché saprai come gestire il tuo rapporto guardiamo una volta per tutto questo ci posso mettere la mano sul fuoco se vuoi maggiori informazioni sull'imagnetizza scrive un'email a gb fascina chiocciola gmail.com g di momento si divo leggo di milano e di milano edimo la fascina come fascello di legno chiocciola gmail.com ok mi scrivo l'email dicendo che hai visto i miei video che ti piacerebbe avere maggiori informazioni ti manderò delle domande per capire un po' la tua situazione se sei la persona adatta a partecipare al percorso perché non prendo tutti c'è la selezione e poi vedremo insomma che si può fare se vuoi rimanere in contatto con me puoi farlo anche attraverso i miei social che sono facebook attraverso il mio profilo gb fascina attraverso la pagina professionale gb fascina e prologo attraverso il mio gruppo di prosi regressiva il mistero delle fiamme gm sempre su facebook un gruppo di supporto gratuito colpato per i fiamme gm che tra l'altro gruppo più frequentato in italia sulle fiamme gm yes e puoi farlo attraverso instagram scrivendovi al mio profilo al mio profilo si fa scena jimmy c'è anche il mio sito gb fascina.it che non aggiorno mai maledizione però c'è che questi sono i modi per contattarvi ti ricordo prima di salutarci di mettere mi piace a questo video se l'hai fatto spacca di mi piace per mettere mi piace al video devi uscire dalla modalità schermo intero del cellulare esci clicca sul premia x praticamente pigia sul pollicione mi raccomando condividi questo video con chi non lo conosce perché magari il mio lavoro può essere utile al di là del fatto delle fiamme ci possono essere informazioni o spunti come veri molto interessanti un po per tutti per cui vedere condividi le fai conoscere il mio lavoro grazie perché veramente ti ringrazio tanto di questo perché è solo grazie a te che posso fare questi video al tuo supporto suggerisci vi attraverso le domande che puoi farmi qui sotto nei commenti quindi commenta questo video temi per i prossimi video fammi domande perché soprattutto le domande sono un grande stimolo per i video quindi fammi osservazioni domande richiedimi temi insomma per i prossimi video ok soprattutto se non l'hai fatto ancora abbonati al mio canale perché ci sono dei contenuti ex a molto interessanti io vi ringrazio per avermi seguito finora per la pazienza e tutto anche di aspettare i nuovi video ci vediamo ai prossimi video e ciao da gb fascina che sono il prologo cartomante numerologo lettone di registri acasici esperto di fiori di pack operatore energetico che utilizza varie tecniche di purificazione come i rechi batix energetics i bars di access concesso superatore delle campagne tibetali di cristallo e tante altre cose adesso non ricordo ragazzi mi mando un caro saluto e ciao da gb fascina